Charli Zetteron, i segreti della sua beauty routine da mamma e star Capelli biondi, occhi color dellacqua e un fisico che farebbe invidia a qualsiasi top model, Charli Zetteron ha trovato il suo elisir di bellezza e ha deciso di condividerlo Nonostante i suoi mille impegni di attrice, attivista e soprattutto mamma, latrice riesce comunque a ritagliarsi un po di tempo da dedicare alla cura del corpo La sua beauty routine si basa su alcuni passaggi semplici, ma efficaci, ecco svelati i suoi segreti di bellezza. Charli Zetteron è la più bella del reame I principali segreti di bellezza di Charli Zetteron sono la dieta e lallenamento sportivo, latrice segue la famosa dieta Mkate, che consiste in un regime detox che punta a eliminare grassi e alimenti raffinati, così da sgonfiare il girovita e acquisire una sensazione di benessere La sua giornata inizia quindi con acqua calda e limone e prosegue poi con sei spuntini in modo tale da tenere il metabolismo sempre attivo Cibi spazzatura e alcol vengono annullati in modo definitivo e tè e tisane sostituiscono completamente il consumo di caffè La dieta però, per essere realmente efficace, deve essere accompagnata ad una attività fisica adeguata, oltre a dedicarsi allo yoga e pilates, perfetti per ritrovare la concentrazione e la serenità Il vero segreto di Charli Z si chiama soul kickle, ed è un tipo di spinning eseguito a lume di candela che stimola tutti i muscoli del corpo e purifica la mente Questa disciplina ha riscosso un grandissimo successo tra le star di Hollywood perché permette di unire la cura del corpo a quella dello spirito in modo molto equilibrato Mille impegni per Charli Z, il segreto del successo. Considerata a tutti gli effetti una delle star più apprezzate a livello internazionale, la Teron ha dimostrato al mondo quanto una donna possa essere forte ed indipendente La parola chiave è determinazione, grazie al suo coraggio e alla sua dedizione, l'attrice è riuscita a realizzare gran parte dei suoi sogni Oltre ad avere una carriera e una popolarità straordinaria, Charli ha coronato il suo desiderio di essere mamma, adottando i suoi due splendidi bambini, nonostante non avesse un compagno Una volta diventata genitore è riuscita a conciliare in modo perfetto il suo essere attrice e madre, segue con grande attenzione l'educazione dei suoi figli e continua anche a partecipare a progetti professionali di grandissima qualità Un'altra parte della sua vita è dedicata poi alle attività di carattere umanitario, da sempre impegnata nel sociale, la Teron ha fatto dei problemi del mondo la sua bandiera In particolare l'attrice si dedica con grande intensità ai problemi del Sudafrica, specialmente l'epidemia di Ica ha colpito la popolazione locale Grazie al suo impegno e alla sua grande popolarità, la Terona ha aperto un dialogo importante su molte di queste tematiche, stimolando una riflessione priva di qualsiasi stereotipo I suoi fan la ammirano molto anche per questo suo coraggio, madre e donna in carriera, Charli Z ha deciso di non mettere fine alla parola sogno e fa di tutto per trasformare la sua vita e quella degli altri in un autentico capolavoro Grazie a tutti